Giappone, due nuove esplosioni alle 6 del mattino locale a Fukushima, fuoriuscita radioattiva che ha fatto salire il livello della nocività, ma il nocciolo è integro. Tragedia immigrati, 35 negati, si è rovesciato un barcone nelle acque tunisine, solo 5 i supestiti. Libia, il Rais avanza ancora, le truppe di Gheddafi attorno a Benghazi, il G8 non decide sulla no-fly zone. Camorra, sequestrati 100 milioni, operazione contro il clan dei casalesi che riciclavano denaro nel Lazio. Ben ritrovati gentili telespettatori con questa edizione del nostro telegiornale. La situazione in Giappone si aggrava ogni giorno che passa e l'allarme è legato alla fuoriuscita di radioattività. Il nuovo guaio per un altro reattore a Fukushima è salito il livello della nocività, ma il nocciolo per fortuna è ancora integro per ora. Il governo ha chiesto agli abitanti nel raggio di 30 chilometri di restare in casa. Il crollo verticale della borsa, poi si registra alla piazza di Tokyo, è praticamente incontrollabile. Perde il 10,55% in arrivo, esperti dagli Stati Uniti, per evitare la fusione del nucleo. Ma vediamo tutto nel servizio. Due nuove esplosioni nella centrale atomica di Fukushima, situata a 250 chilometri a nord-est di Tokyo. Prima se ne è verificata una nel reattore numero 2, poi l'altra nel reattore numero 4, dove si è sviluppato un incendio, estinto solo dopo qualche tempo. Benché il reattore numero 4 fosse fermo per lavori di manutenzione quando venerdì scorso l'area fu investita dal terremoto di magnitudo 9, secondo il capo portavoce del governo giapponese Yukio Edano, il combustibile nucleare spento si è surriscaldato, generando idrogeno e innescando nell'esplosione. Sono dunque 4 su 6 i reattori dell'impianto nei quali si sono verificati scoppi di ingenti proporzioni. Altrettanto era infatti già venuto al numero 1 e al numero 3 rispettivamente sabato e ieri. Le autorità hanno avvertito che il livello delle radiazioni intorno alla centrale è ormai diventato nocivo per la salute e benché fossero già stati evacuati gli abitanti all'interno di una zona di esclusione di 20 chilometri dalla centrale, il premier nipponico Naoto Kan ha invitato a rimanere chiusi in casa anche coloro che risiedono entro una fascia di ulteriori 10 chilometri dal limite della zona di esclusione medesima. Livelli di radioattività 10 volte superiori alla norma sono stati registrati oggi a Mebashi, città situata a circa 100 chilometri a nord di Tokyo. I livelli anomali di radioattività sono stati registrati anche a Tokyo, ma un rappresentante dell'amministrazione metropolitana, Sairi Koga, ha precisato che non sono considerati tali da nuocere al corpo umano. Intanto gli effetti del terremoto e del successivo tsunami stanno avendo pesanti ripercussioni sui mercati finanziari giapponesi. Nella giornata di ieri la borsa di Tokyo aveva ceduto più del 6%, oggi il crollo è stato ancora più pesante, con l'indice Nikkei che ha chiuso con un ribasso del 10,55%. Passiamo a un'altra notizia, anzi un altro servizio con il nostro telegiornale. Una barca si è capovolta e 40 persone sono annegate, in 45 erano partiti dalla costa tunisina la notte scorsa, testimoni a bordo di un'imbarcazione che viaggiava, navigava a fianco della barca più piccola, hanno visto appunto quest'ultima rovesciarsi con le persone sparire tra i flutti. Nulla da fare appunto per le persone finite in mare, tranne che per 5, come abbiamo detto, miracolosamente tratte in salvo. In servizio. Lampedusa è in piena emergenza, immigrati. Sono stati 22 gli sbarchi e 1.623 le persone, tra cui 6 donne e 6 bambini, arrivati sull'isola nelle ultime 24 ore. La Capitaneria di Porto riferisce che tra questi non ci sono feriti né persone in condizioni di salute critiche. Di ieri sera la notizia, appresa sempre dalla Capitaneria di Porto, di un barcone che si sarebbe rovesciato in acque tunisine dopo circa due ore dalla partenza. A riferire la notizia sono stati 5 immigrati raccolti in mare da un secondo barcone. Stando al racconto, 35 sarebbero le persone rimaste in mare. La Capitaneria di Porto ha allertato le autorità tunisine. Anche per la giornata di oggi si attendono decine di sbarchi a causa delle buone condizioni del mare e delle notizie provenienti dalla Libia, dove le truppe fedeli al colonnello Gheddafi starebbero riprendendo il controllo dell'intero territorio, con l'eccezione della zona di Benghazi. Inoltre la nave Mistral Express, con a bordo 1.836 persone in maggioranza di nazionalità marocchina, oltre gli 83 uomini dell'equipaggio, è partita ieri da Tripoli. Ha chiesto successivamente di fare rifornimento nel porto siciliano di Augusta, ma non è arrivata la necessaria autorizzazione per l'attracco. Il Ministero degli Interni teme che una volta sbarcati in Italia, i passeggeri della nave diventino dei potenziali immigrati. Il Viminale ha chiesto al Ministero della Difesa e a quello dei Trasporti di evitare perciò l'ingresso del traghetto in acque territoriali italiane e al Ministero degli Esteri di contattare le autorità marocchine perché la nave sarebbe stata affittata dal governo di Rabat per riportare a casa i connazionali in fuga dalla Libia. Delle emergenze sbarchi hanno discusso ieri a Palazzo Chigi il Premier Silvio Berlusconi e Giuseppe Manuel Durao Barroso, Presidente della Commissione Europea. Quest'ultimo ha ribadito nella successiva conferenza stampa che l'Italia può contare sulla solidarietà politica e finanziaria dell'Unione Europea. Provare per credere è lo slogan che ha reso famoso il marchio Aiazione. Vent'anni dopo Renato Semeraro e Gian Mauro Borsano, l'ex Presidente del Torino Calcio ed ex Deputato del PSI, convolto anche in Tangentopoli, come ricorderete, hanno rilevato il marchio dalla vedova Aiazione. Le cose però sono andate male. Ora ci sono 13.000 persone che lamentano di essere state truffate. Abbiamo comprato mobili, abbiamo chiesto un prestito, dicono che non ci sono mai stati consegnati né mobili né altri superlettri. Non solo, tutti i punti vendita sono stati chiusi e le oltre 800 persone che lavorano nella ditta sono senza stipendio. Proseguiamo con il nostro telegiornale. Un altro servizio. Non è ancora chiara la situazione. In Libia le truppe del Raiz avanzano, ma le parti smentiscono le notizie che provengono dalla parte avversa. Quindi anche la comunità internazionale non è in grado di stabilire quale sia la situazione. L'ex presidente degli Stati Uniti, Bill Clinton, comunque ha garantito appoggio politico ed economico agli insorti, ma non quello militare. Intanto il G8 non decide sulla no-fly zone perorata dalla Lega Araba. Mentre i capi della rivolta libica chiedono alle potenze occidentali di eliminare fisicamente Muammar Gheddafi, le forze fedeli al colonnello avanzano verso Benghazi e preparano l'assalto finale ad Ashdabia, ultima roccaforte dei ribelli prima della città simbolo della lotta contro il regime. Le forze fedeli a Gheddafi infatti oggi hanno sferrato almeno quattro raid aerei sulla cittadina di Ashdabia nell'est della Libia. Lo riferisce la TV al-Jazira. Ashdabia è stato oggetto di raid aerei anche ieri. Nell'Oves i ribelli controllano ancora misurata, di fatto circondata dall'esercito, mentre le forze del Raiss hanno ripreso Zuara a 120 km Oves di Tripoli. E la diplomazia internazionale stenta a trovare un'intesa sulla gestione della crisi e in particolare sull'istituzione di una no-fly zone. I ministri degli esteri del G8, riuniti da ieri sera a Parigi, non hanno raggiunto nessun accordo. In questo quadro il segretario di Stato statunitense Hillary Clinton garantisce agli insorti appoggio politico ed economico, ma esclude aiuti militari. Come annunciato dal titolare della Farnesina, Franco Frattini, i ministri del G8 sono d'accordo per una rapida ripresa delle discussioni al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per giungere a una soluzione che faccia pressioni sul leader libico affinché cessi le violenze. A questa prospettiva dovrebbero, secondo il G8, essere associati Lega Araba e Unione Africana. Intanto Gheddafi, in un'intervista esclusiva al giornale, ha detto «La nostra guerra è contro Al-Qaeda, ma se gli occidentali si comportano con noi come hanno fatto in Iraq, la Libia uscirà dall'alleanza internazionale contro il terrorismo, ci alliemo con Al-Qaeda e dichiariamo la guerra santa». Il colonnello si è detto realmente scioccato dall'atteggiamento dei suoi amici europei e tradito anche dal premier Silvio Berlusconi. «Non ho più alcun contatto con l'Italia e con Berlusconi», ha precisato. «Quando il vostro governo sarà sostituito dall'opposizione ed accadrà lo stesso con il resto dell'Europa, il popolo libico prenderà forse in considerazione nuove relazioni con l'Occidente». 100 milioni di euro, questo è quanto è stato sequestrato alla Camorra in soldi e in beni in un'operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, ma l'operazione è stata condotta nel Lazio, percorrendo molte città al punto della regione e arrivando fino all'Aquila. Addirittura il provvedimento emesso dal Tribunale di Frosinone è l'ennesima prova della crescente penetrazione della Camorra, in particolare del clan dei Casalesi, anche nella regione Lazio. 100 milioni di euro, è questo il valore dei beni sequestrati dalla Direzione Investigativa Antimafia di Napoli, nel Basso Lazio, ad esponenti del clan camorrisico dei Casalesi. Il provvedimento emesso dal Tribunale di Frosinone è l'ennesima prova della crescente penetrazione dei clan campani nella regione. L'operazione, chiamata Verde Bottiglia, ha portato al sequestro di società a ditte individuali, fabbricati, terreni, vetture di lusso e rapporti finanziari, localizzati a Castrocelo, Cassino, Aquino, Frosinone, Formia, Gaeta, Roma e l'Aquila. E tutti riconducibili a tre pregiudicati, Gennaro De Angelis, di 66 anni, Aladino Saidi, di 33 e Antonio Di Gabriele, di 65. L'ordinanza dispone anche la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni a carico dei tre. De Angelis, in particolare, è un vecchio affiliato del clan dei Casalesi che intorno al 2000 ha costituito un gruppo autonomo, ma sempre legato alla Camorra casertana, nel Basso Lazio, dove si è dedicato prevalentemente alle truffe legate all'importazione di auto in maniera illegale dalla Germania, rivendendole nella zona laziale. L'operazione, dice il ministro della Giustizia Angelino Alfano, è l'ennesimo colpo inferto alla Camorra. Quello che è avvenuto oggi è la dimostrazione che la cultura delle misure di prevenzione si sta diffondendo anche al di là delle regioni storicamente afflitte dalla Camorra. Proseguiamo con il nostro telegiornale, passiamo a un altro servizio. In primavera è tempo di starnuti e allergie. Milano risponde inventando una piantumazione del tutto particolare con piante analergiche in giardini e spazi verdi predisposti preventivamente. In una città tormentata dallo smog e dalle polveri sottili che provocano sempre malattie respiratorie, a volte anche gravi, soprattutto se è carico di bambini e anziani, questa potrebbe essere una situazione che allevia un po' i danni che questi dati climatici stanno provocando. Il primo dei giardini analergici è stato realizzato in largo dei gelsomini, un bel nome. Il prossimo è previsto in Piazza Udine. Primavera, tempo di starnuti e allergie. Milano risponde inventando i giardini analergici degli spazi verdi in cui vengono piantati alberi che non provocano allergie. In una città tormentata dallo smog e dalle polveri sottili che provocano malattie respiratorie sempre più in aumento, ripensare al verde cittadino in modo da ridurre le allergie potrebbe migliorare la situazione. Questo è un progetto che va esattamente in questa direzione, ma non solo ed esclusivamente per il fatto meramente stagionale, ma per dare una svolta vera alla città di Milano, al verde della città di Milano. Perché Milano ha bisogno di tanto verde, ma ha bisogno di tanto verde analergico, e cioè di giardini e parchi che siano a dimensione della persona, ma che sappiano anche curare la salute delle persone. E allora questo è un progetto importante e significativo perché va esattamente nella direzione di creare delle linee guida per il futuro della nostra città di Milano, che guarda quindi sempre di più e sempre meglio alla salute dei milanesi. Con l'università abbiamo quindi stilato la mappatura della città di Milano per quanto riguarda le piante allergiche e le piante non allergiche e abbiamo già avviato la realizzazione di un primo sito che prevede già ed è già stato piantumato con piante e arbusti solo allergiche e così andremo a realizzare altri siti. Per poterli realizzare, credo che sia bello, importante e significativo, chiamare a una partecipazione vera anche i milanesi, perché il verde deve essere dei milanesi, la città deve essere dei milanesi e quindi chiediamo ai milanesi di dare una mano all'assessore alla salute, al comune di Milano, alla città di Milano perché con un contributo anche di relativi pochi euro possono partecipare a costruire una città verde e allergica. I milanesi potranno, i cittadini potranno, entrando nel sito, concorrere, verseranno una quota di denaro e una quota di denaro servirà ad acquistare o un piccolo pezzo d'albero e di pianto o addirittura tutto un arbusto e potranno seguire la storia, la vita e la costruzione di questo giardino e di questo parco passo a passo. Riceveranno sempre delle informazioni e vedranno quindi creare di giorno in giorno il loro giardino analergico. Grazie a tutti.